Direttore, questa mattina durante la nostra diretta l'attacco a lei personalmente del Presidente di Ristori Italia, Giorgio Andrea Ricci, che ha detto abbiamo chiesto più volte a Varotti un incontro e lui ci ha chiuso la porta in faccia. Che cosa risponde? Ma resto veramente sorpreso e allibito dalle dichiarazioni di Ricci, perché nessuna richiesta è stata fatta alla Confcommercio, né al Presidente dell'Associazione Provinciale Ristoratori Mario Di Remigio. Gli ultimi contatti con Ristori Italia sono di questa primavera e dopo una serie di contatti su chat dei ristoratori abbiamo fatto un incontro in un ristorante di Fano dove abbiamo chiarito che la Confcommercio ha già un'associazione di ristoratori che rappresenta oltre 300 ristoranti nella provincia e che ovviamente siamo d'accordo e disponibili al dialogo con tutti gli imprenditori del mondo della ristorazione, ma di associazione ne abbiamo già una. Ristori Italia dice di avermi chiesto recentemente incontri ripetutamente che io avrei sbattuto la porta in faccia. Assolutamente non vero, io personalmente sono disponibile all'incontro con chiunque, il telefono è libero, Andrea Ricci ha il mio cellulare, può chiamarmi o può chiamare il Presidente dell'Associazione Ristoratori, visto che le tematiche sindacali sono comuni. L'altra cosa che dichiara è che la Confcommercio ha abbandonato il mondo dei ristoranti che non li segue sindacalmente, questa veramente è una falsità, probabilmente alle spalle di Ristori Italia c'è qualcuno che ha interessi politici o di altra natura per dire cose del genere, ma poi basta vedere la realtà. La realtà è che noi abbiamo portato in piazza mille persone anche il 28 di ottobre, proprio con il mondo della ristorazione, che l'Associazione Ristoratori e la Confcommercio seguono costantemente le tematiche legate al Covid, al ristoro, alle iniziative a livello locale e nazionale. Giovedì scorso abbiamo incontrato il Presidente della Giunta regionale, Acquaroli, e uno dei temi principali di richiesta, di attenzione alla Regione riguarda proprio il mondo dei ristoranti e dei pubblici esercizi, oltre che del turismo in genere. Giovedì prossimo avremo un incontro con il Vice Presidente, nonché Assessore all'attività produttive, Mirko Carloni. Il tema è sempre questo, il ristoro, cioè aiuto alle categorie economiche, compresi i ristoranti che sono in difficoltà. Quindi onestamente sono rimasto sorpreso nel sentire questa dichiarazione di Ricci, che poi dopo, sentivo l'altro ristoratore, abbiamo un dialogo proficuo con un'altra organizzazione, perfetto, fanno bene, non c'è problema, voglio dire, le associazioni sono aperte e quindi qualcun altro non ha associazioni ai ristoratori come invece noi ce l'abbiamo, per cui può essere che da cosa nasca cosa. Ho comunque telefonato subito al nostro Presidente Provinciale dei ristoratori, che ha telefonato a Ricci e quindi gli ha detto che c'è la disponibilità nostra a incontrarci, come c'è sempre stata, peraltro. Una cosa è l'incontro, una cosa è il riconoscimento di un'associazione, noi l'abbiamo già una per cui non possiamo riconoscerne un'altra, però il dialogo, soprattutto in questi momenti di gravissima difficoltà per il mondo che noi rappresentiamo è essenziale. L'ultima cosa, non bariamo sui numeri, ho sentito delle dichiarazioni in queste interviste, si parla di associazioni con tanti associati, stiamo bassi, diciamo la verità.